Vi auguro una buona giornata con questo messaggio. Aiutante di pensiero. La tua vita sta per subire una rapida accelerazione. Eventi che sembravano in sospeso all'improvviso richiedono la tua completa attenzione. Devi cominciare ad agire senza fermarti a riflettere troppo. Controlla i dettagli meglio che puoi. Conosci, incontrerai o sei qualcuno dotato di una mente agile che capisce all'istante cosa fare. Questa persona è sicura di sé e coraggiosa. La tua vita sta per subire una rapida accelerazione. Eventi che sembravano in sospeso richiedono all'improvviso grande concentrazione e attenzione. È possibile che adattandoti ai nuovi ritmi ti senta un po' stressato, ma starai comunque meglio rispetto alla precedente immobilità. L'attesa è finita. È il momento di agire. Cerca soluzioni creative ai problemi e otterrai grandi risultati. Anche se hai davvero bisogno di muoverti in fretta, controlla i dettagli con attenzione. Una persona molto capace, con una mente agile e una forte determinazione. Qualcuno che interviene e esamina la situazione e sa subito cosa fare. Ben intenzionato, sempre certo di riuscire, coraggioso, idealista ed esperto. Altri significati di questa carta sono Un'improvvisa, frenetica attività. Pensare in modo alternativo, difendere ciò in cui credi. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata. Un'improvvisa, frenetica attività 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 att